Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, finalmente sono ritornata su questi schermi. Allora, come state? Tutto bene? Spero di sì. Io mi sono rifatta il trucco e il parrucco e ho fatto una piega mossa dal parrucchiere. Ieri sono andata dal parrucchiere, mi sono dedicata a un intero pomeriggio e ho fatto la piega mossa che poi non mi durerà un cavolo perché i miei cabelli sono degli spaghetti ma insomma volevo cambiare un pochettino, visto che poi adesso stanno crescendo, così cambiare un po' la piega e vedere come va. Come state? Spero tutto bene, io sto bene, molto 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 indaffarata. Tante cose belle, i tornei di basket in oratorio, quindi stare in cucina, preparare insomma una cucina molto spiccia, molto easy però l'organizzazione dei turni, l'approvvigionamento di tutte le cose, poi l'organizzazione pian piano del campeggio e dei pranzi che avremo a luglio. Ha tante visite di controllo della mia mamma, alcune visite di controllo mie, al momento tutto bene, quindi è l'estate un periodo un po' così, dove si sta molto meno in casa. Per fortuna adesso sono cominciate anche le belle giornate e quindi niente, un video oggi di libri. Un video di libri, un video sicuramente molto lungo perché chiacchiereremo. Ho letto uno, due, tre, quattro, cinque libri dall'ultima volta. Sono ritornata un po' al mio primo amore, a uno dei miei primi amori e quindi niente, vi racconto e vi dirò cosa ne penso, ma sono tutti libri che mi sono piaciuti. Infatti ogni tanto mi faccio qualche domanda e dico ma tutti i libri che leggo mi piacciono. Devo dirvi la verità che comunque io cerco sempre il bello, il positivo nel libro, comunque qualcosa che mi sia stato di spunto, mi abbia aiutato a fare delle piccole riflessioni e quindi magari anche dei libri che all'inizio sembra non mi piacciano o poi alla fine invece mi hanno aiutato molto dal punto di vista, così, magari per farsi anche delle domande, per capire alcune situazioni che sono descritte nel libro ma che magari viviamo anche noi nella nostra vita comune. Allora, vi stavo dicendo periodo molto bello, con tante cose belle. Lucia oggi ha fatto lo scritto di italiano, è appena tornata, ha scelto come traccia quella di Ungaretti, che io non avrei scelto, io avrei scelto Rita Levi Montalcini, però vabbè, brava Lucia che ha scelto Ungaretti e è tornata abbastanza contenta, sembra che sia andato tutto bene. Poi nei prossimi giorni, quindi giovedì, venerdì e lunedì, avrà la prova di 18 ore per il progetto di scenografia e poi il 4 luglio, il giorno della liberazione, avrà l'orale. Quindi pensate, tanti pensieri positivi, che vada tutto bene, che appunto poi esca, non mi interessa il voto, io sono uscita dalla maturità con 37 quando il minimo era 36, ma mi sono goduta l'estate, mi sono goduta il campeggio con i miei ragazzi in oratorio, ricordo che appunto ho fatto l'orale e poi è passato un mio amico in moto a prendermi, sono andata a prendere la valigia e sono salita al campeggio, quindi della maturità e del voto non mi interessava nulla. Sono rimasta ancora così, i voti per me a scuola, cioè per me non sono importanti, nel senso che un 6 piuttosto che un 8 vanno sempre bene, l'importante è che una persona si impegni, un ragazzo si impegni, che ci metta tanto del suo ma non troppo, perché è giusto anche che ci siano tantissime altre esperienze che ci possono far diventare degli uomini e delle donne bravi, belli dentro e belli fuori, perché è la vita che ci fa diventare delle belle persone e non solo la scuola. Ecco, è stato un cammino di 5 anni molto bello, con dei professori molto molto bravi, molto empatici, quasi tutti, che hanno saputo apprezzare in Lucia la sua sensibilità, la sua profondità, la sua timidezza, il suo stare sempre nelle retrovie, non come la sua mamma, e che però l'hanno vista proprio crescere e maturare, insomma, quindi anche il primo anno che poi era rimasta bocciata le è servito, le è servito davvero, davvero tanto, perché si è rassicurata ed è arrivata, ed è arrivata, insomma, a una conclusione di questo periodo scolastico. Chissà poi è ancora un po' confusa su quello che vorrà fare, ma vabbè, ci sarà tempo poi per decidere. Ma questa chiacchierata, insomma, ve l'ho detto che sarà un video lungo, perché tanto che non ci vediamo, e quindi mi prendo la responsabilità di poter chiacchierare molto liberamente. So che sarà un video un po' di nicchia, perché magari l'argomento libri non interessa a tantissime persone, però tra le tante mie passioni ci sono i libri, come c'è tutto quello che è il beauty, come ci sono i profumi, come c'è il ricamo, come c'è la maglia, e chissà quanto ancora. Il periodo dell'estate è il periodo in cui io comincio a progettare per l'inverno. Quindi sto facendo un po' di prototipi, di lavoretti per il gruppo missionario da provare, da fare insieme. Sto ricominciando a ricamare, e poi vedrete in uno dei prossimi video. Sto facendo un corso di taglio e cucito online, perché voglio riprendere in mano la mia macchina da cucire, le mie stoffe, taglio e cucito come abbigliamento, ma poi vi dirò, vi spiegherò meglio dove, come, nel prossimo video creativo. E quindi, insomma, anche il tempo dedicato ai social, a quello che è YouTube, proprio nei mesi dell'estate è sicuramente meno. Siamo tornati alla vita normale con le telefonate che interrompono i video. Evviva! È nulla. Vi stavo dicendo quindi che il periodo dell'estate, ho fatto le scale. Per me è sempre un po' quello, cioè il fatto di avere tante idee creative in testa di cucito, di maglia, di ricamo. Adesso che ho ricominciato a ricamare, e mi piace anche così prendermi questi spazi, perché comunque si arriva quasi a una fine d'anno, prima delle vacanze in cui si è stanchi, in cui la mente fa fatica a carburare, e per me questo è tutto materiale che mi dà energia, cioè il fatto di ricercare nuovi progetti, di provare, però devo anche smettere di continuare a salvare, di andare a cercare mille idee, per poi ritrovarmi a non riuscire a far nulla. E quindi sto un attimo cercando di, così, di mettere un po' freno a tutta questa voglia di creare e di fare, ma senza effettivamente fare. Niente, ho già parlato anche troppo, quindi adesso cominciamo con i libri che ho letto. Il primo libro, Prove di sopravvivenza per una famiglia felice, di Maddie Dawson. Sono tutti libri, tranne uno che avevo comprato tanto, tanto tempo fa, a parte uno che è abbastanza recente, ma ho visto che di questa scrittrice ne è uscito uno nuovo, che è una delle mie scrittrici italiane preferite. Allora, di cosa parla questo libro? Parla di un argomento molto molto delicato, dell'adozione. A volte anche doloroso, ma anche in questo libro ci sarà, comunque si leggerà del dolore di questa ragazza, però lo fa in una maniera davvero molto spiritosa, molto ironica, divertente. Ci saranno delle scene davvero che vi faranno ridere a crepa cuore, e soprattutto questo libro ci fa scoprire una donna determinata, una donna che comunque accetta quello che sarà poi la conclusione di questa storia, che finirà bene, ma magari non come noi abbiamo immaginato. Allora, vi leggo brevemente la trama. Nina Popkin ha 35 anni, è una vita tutta da reinventare. Non solo è stata lasciata dal marito, che a tempo di record si è rifatto una nuova famiglia, ma ha appena perso anche la madre adottiva, l'unica persona a cui era profondamente legata. Precipitare nella disperazione sarebbe del tutto naturale, se la mamma, prima di morire, non le avesse fatto una rivelazione impossibile da ignorare. L'indirizzo dell'orfanotrofio dove Nina venne adottata. Per la giovane è un segno del destino, forse è arrivato finalmente il tempo di rintracciare la donna che l'ha data alla luce. Lindy McEntryer invece è una persona di successo, dirige un prestigioso salone di bellezza, ha una bella casa, un marito affascinante, e tre bambini dagli irresistibili riccioli biondi. L'ultima cosa di cui ha bisogno è che una svitata come Nina faccia irruzione nella sua quiete annunciandole che è sua sorella e tentando di coinvolgerla per rispondere alla domanda più scomoda nella loro vita. Chi è la donna che le ha messe al mondo per poi sparire senza lasciare traccia? È un romanzo davvero molto molto bello. Io ho amiche che hanno adottato e ritrovo molte delle loro vicissitudini in questo libro, come penso sia per qualsiasi adozione. Ma il bello di Nina è che sa accettare quello che la vita le regala, anche di scomodo, e che lo prende tutto come un dono, come questa sorella che all'inizio non la vuole vedere, cioè non la vuole conoscere, non vuole che la sua vita tranquilla, bella, di figlia adottiva e comunque di madre realizzata, di donna realizzata, di moglie realizzata, venga sconvolta da questa ragazza che apparentemente sembra un po' svitata. Perché continua, continua a riproporsi e ad andare al suo salone, si fa fare anche una messa in piega, cambia taglio di capelli, insomma diventa una cliente, ma non lascia perdere. C'è una determinazione in Nina di riuscire a scoprire la verità, quella verità che magari non è quella che si è immaginata e quella che ha sempre sognato, ma una verità che è giusto che lei sappia e che così le dia anche una certezza di essere stata figlia, di essere stata amata, anche se la vita poi ha fatto una strada diversa. Un romanzo davvero molto molto bello, molto toccante, ma anche molto molto divertente che vi consiglio. Visto che poi adesso stanno arrivando le vacanze, magari qualcuno è già in vacanza, ci saranno magari degli spunti di lettura che vi possono interessare. Secondo libro che mi è piaciuto tantissimo, Felicità è un pizzico di noce moscata, di Maria Gudin. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Qui siamo su tutt'altro genere. Meg non ricorda quasi nulla della propria infanzia, ma poco importa. La madre Valerie, svagata e fantasiosa, ma molto svagata ragazzi, molto svagata, l'ha cresciuta nutrendola di storie meravigliose sul suo passato e sulla sua famiglia. E intanto nella cucina che profumava di frutta e cannella, sfornava a ripetizione un dolce più buono dell'altro. Le ha raccontato per esempio che alla sua nascita la casa si era riempita improvvisamente dell'aroma intenso della noce moscata, che da piccola era così dolce che le bastava intingere un dito nel tè per zuccherarlo, che suo padre era un grandissimo pasticcere morto mentre preparava una magnifica torta. E via via. Cosa succede? Succede che la madre di Meg, Valerie, si ammala, si ammala molto gravemente e diciamo arriva proprio agli ultimi mesi di vita. E Meg, nonostante sia stufa di riconoscere che sua mamma appunto si è inventata un sacco di storie probabilmente per nasconderle o per proteggerla, va ad abitare gli ultimi mesi con lei. e proprio andando da lei scopre che sua mamma si è creata tutte queste storie, questa vita così diversa per nascondere un grosso dolore, per proteggere Meg da una vita che non era quella a lei destinata. È un romanzo molto bello dove si descrive il rapporto d'amore che c'è tra una madre e un figlio molto intenso nonostante le due non vadano sempre d'accordo soprattutto Meg si ribella a questo modo di vivere di sua mamma è sempre molto sola ha pochi amici sembra che i suoi vicini di casa e comunque la città in cui vive non la conosca ma al momento del funerale davvero scoprirà un'altra donna di una bontà di una gentilezza di una generosità che lei non aveva neanche immaginato e pian piano scoprirà anche le sue radici un romanzo davvero bellissimo ricco di amore di tenerezza è un romanzo davvero stupendo che vi consiglio Felicità è un pizzico di noce moscata molto 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 bello terzo romanzo che vi dirò la verità è da tanti anni che ho nella mia libreria ho anche iniziato a leggerlo qualche anno fa e non so per quale motivo poi io l'abbia lasciato lì ripreso in questi ultimi mesi devo dire che mi è piaciuto molto diciamo che è di tutt'altro genere di questo o dell'altro dove comunque è abbastanza divertente è un romanzo quasi buio scuro non è un horror è un romanzo su una famiglia il sapore dei semi di mela Catarina Aghina penso perché è una scrittrice tedesca sì esatto allora vi leggo un pezzettino tanto per farvi capire qual è la storia Budschaven lontano nord della Germania l'odore di mele è intenso e pungente e avvolge la vecchia casa e il giardino basta quel profumo e Iris bibliotecaria di Friburgo di colpo torna bambina sono passati anni ma tutto è rimasto come allora la casa avvolta dal fitto fogliame i ribes bianchi i tappeti di non ti scordar di me sepolti dalle erbacce un giardino quasi incantato dominato dal vecchio albero di melo sotto i cui rami le donne della famiglia Lunchen hanno trovato l'amore l'amicizia ma anche la morte come Rosemary l'amata cugina di Iris morta ad appena 15 anni una fine misteriosa cui nessuno ha mai saputo dare una spiegazione da cui Iris ha cercato in tutti i modi di fuggire trovando la salvezza nei libri dimenticati ma adesso che lei lo voglia no è venuto il momento di occuparsi di questa casa perché è venuto il momento di occuparsi di questa casa perché la nonna quando muore lascia la proprietà e la casa a Iris Iris ha una mamma che ha due sorelle quindi ci sono altre due zie e la sua mamma che potevano ereditare e invece con sorpresa si ritrova lei le erede di questa casa di questa casa misteriosa il nonno era un avvocato tedesco molto rigoroso soprattutto con le figlie che ha un passato oscuro ha un passato oscuro relativo alla guerra e lei pian piano scoprirà il perché ma ci sono anche dei casi particolari nella sua famiglia si narra per esempio che una sua zia ogni volta che ti tocchi lascia la scossa perché è nata in una notte piovosa e tempestosa dove il fulmine ha colpito la stanza in cui è nata ed effettivamente questa zia lascia la scossa insomma per farla breve è un romanzo io lo troverei anche un romanzo di formazione perché non è divertente non ci sono delle scene o dei capitoli che vi fanno ridere due scene particolari un po' ridicole in cui lei si mette in ridicolo ma poi vabbè lo scoprirete se lo leggerete però è un romanzo molto molto personale di questa ragazza che nonostante non abbia voglia vuole comunque capire la storia della sua famiglia il perché la mamma e le due sorelle anni addietro non si sono parlate per anni il perché della morte della cugina Rosemary insomma ci sono tanti lati oscuri che pian piano lei scoprirà scoprirà e grazie anche al curatore del testamento che è un ragazzo giovane che lei conosce da anni alla fine troverà anche l'amore però non lo definirei un romanzo d'amore lo definirei proprio un romanzo così di introspezione dove questa ragazza con fatica riesce ad arrivare a trovare una serenità una serenità però non eclatante non di quelle dove tutto è bello dove tutto è felice ma una serenità guadagnata con fatica e con dolore un romanzo davvero che adesso mi è piaciuto tantissimo passiamo invece all'ultimo romanzo ma che è spettacolare io l'ho già nominata parecchie volte Chiara Moscardelli è una scoperta recente come autrice nella mia biblioteca e la trovo la trovo spettacolare come riesce a farmi ridere lei con i suoi romanzi non mi fa ridere nessuno è davvero un romanzo giallo perché lei scrive romanzi gialli ma in mezzo a queste pagine ci sono di quelle scene dove veramente vi diverterete tantissimo perché ha una capacità di linguaggio spettacolare ed è una bravissima narratrice vi consiglio però se volete leggere i suoi romanzi di partire dal primo adesso vi dico qual è perché comunque in ogni romanzo si fa riferimento a delle persone dei personaggi che sono già apparsi nei romanzi precedenti bravissima allora il primo di questa serie c'è Teresa Papavero e la maledizione di Strangola Preti c'è Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine che sono i due romanzi precedenti a questo e che sono collegati ovviamente l'uno all'altro allora anche qui parliamo di giallo parliamo di omicidi vi leggo brevemente la trama a Strangola Galli è tempo di matrimoni in paese sembra che tutti si siano sposati o stiano per farlo a partire da Giovanni Battista Papavero il padre di Teresa l'unica che si ostina a rimanere single è proprio l'eccentrica criminologa fermamente convinta che sia meglio non legarsi a nessuno e come darle torto quando tutti gli uomini che sono entrati nella sua vita sono scomparsi nel giro di pochi mesi ma la Papavero ha ben altro a cui pensare durante le indagini sul serial killer di Auscello ha scoperto alcune informazioni significative sull'infanzia della madre e adesso finalmente ha una pista da seguire per ritrovarla nel frattempo però c'è un altro caso che richiede la sua attenzione al BNB si è presentata una donna che ha urgenza di parlarle peccato che Teresa non faccia in tempo a rientrare che Barbara Venturini viene trovata morta nella sua camera tra gli effetti personali ci sono una vecchia fotografia che rappresenta un gruppo di ragazzi intorno ad un falò e un cellulare che cosa doveva dirle Barbara di così importante chi sono i ragazzi della foto e da qui partirà un'indagine pazzesca un'indagine pazzesca ovviamente nel romanzo ricomparirà l'innamorato Leonardo Serra questo poliziotto che sta appunto facendo un'indagine parallela segreta ma chissà come mai l'indagine di Teresa Papavero si incrocerà con quella del nostro Serra Leonardo insomma un romanzo meraviglioso che vi farà ridere che vi farà stare con il cuore sospeso perché comunque ci sono alcuni momenti dove l'azione è davvero molto molto viva ma dove sono sicura voi farete delle risate pazzesche pazzesche e tutti i libri di Teresa Papavero io ve li consiglio soprattutto sono libri che si leggono veramente velocemente sono piacevolissimi quindi perfetti per l'estate perfetti per un momento di relax perfetti per le nostre vacanze e quindi leggeteli 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 ultimo libro della serie che ho letto in un giorno perché quando ho iniziato a leggerlo non ho più smesso era da anni anni che volevo leggere questo libro di Bianca Pizzorno ma facciamo un passettino indietro siccome in questo periodo appunto sono cioè in questo periodo come sempre sono alla ricerca di progetti creativi cucito ricamo maglia uncinetto mi sono imbattuta in questo blog che si chiama ricamere e dopo vi lascerò tutto nell'info box che è il blog di Irene dove ha fatto molto bene dove ci presenta i suoi lavori le sue le sue ultime creazioni ma ha un'intero un'intera pagina dedicata a romanzi che nella loro storia nella loro trama parlano di cucito ricamo moda sartoria uncinetto maglia e quindi tra i vari libri me ne sono prenotati in biblioteca 4-5 e tra questi c'è proprio lui il sogno della macchina da cucire di Bianca Pizzorno un romanzo meraviglioso meraviglioso dove si parla dell'emancipazione della donna ai tempi di fine ottocento dove questa piccola sartina integerrima vuole continuare a fare questo lavoro vuole essere indipendente si sa che le condizioni economiche delle sartine era veramente molto precaria guadagnavano molto poco e soprattutto erano sfruttate non erano delle sarte di alta moda che potevano permettersi un atelier ma lavoravano in casa e molto spesso lavoravano anche nelle case dei signori che appunto le cercavano per fare il corredo per fare dei lavori di manutenzione ai vestiti non è come adesso che si scuce un bottone e si butta la camicia io non lo faccio mi è stato insegnato a riparare e mi piace molto farlo però sicuramente una volta anche le persone abbienti stavano molto attenti a curare bene i loro abiti e quindi c'è quella parte di manutenzione quindi bottoni rattoppare i grembiuli da cucina i grembiuli che anche i signori tenevano in casa sopra i vestiti belli oppure addirittura il riciclare le stoffe da vestiti che ormai erano passati di moda e ricreare dei vestiti nuovi o dei modelli nuovi come magari la moda parigina così stimolava le giovani spose e le giovani signori che avevano un certo patrimonio e adesso vi leggo com'è la trama c'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di pret-à-porter e le grandi catene di moda a basso prezzo e ogni famiglia che ne avesse la possibilità faceva cucire abiti e biancheria da una sarta a lei era spesso dedicata a una stanza della casa nella quale si prendevano misure e si imbastivano orli ma soprattutto nel silenzio del cucito si sussurravano segreti e speranze la voce narrante di questo romanzo è una sartina aggiornata nata a fine ottocento una ragazza di umili origini che impara da sola a leggere e ama le romanze di Puccini ma più di tutto sogna una macchina da cucire prodigiosa invenzione e capace di garantire l'autonomia economica lucente simbolo di progresso e libertà cucendo la sartina ascolta le storie delle tante persone che la circondano la marchesina Esther che va a cavallo e studia la meccanica e il greco antico Miss Lily Rose giornalista americana anticonformista le sorelle Provera con i loro scandalosi tessuti parigini Assuntina la bimba selvatica in una società rigidamente divisa per censo anche per la sartina giungerà il momento di trovare la sua strada nel mondo con la sola forza dell'intelligenza e delle sue sapienti mani Bianca Pizzorno creatrice di personaggi indimenticabili ed esperta cucitrice in prima persona da vita in queste pagine a una storia antica percorsa da uno sguardo modernissimo narrare della sartina di allora significa parlare delle donne di oggi e dei grandi sogni che dovrebbero diventare invece dei diritti alla libertà al lavoro e alla felicità ed è un libro davvero bellissimo che ci racconta un percorso che hanno fatto le donne di tantissimi anni fa e che ci fa capire quanta fatica quanta determinazione quanta forza soprattutto quei tempi la donna doveva fare per essere accettata come alla pari anche se ovviamente la società non lo permetteva ma lei riesce a costruire soprattutto con la signorina Esther un rapporto di amicizia davvero molto profondo molto rispettoso quasi alla pari che le aiuterà tantissimo anche in un momento di difficoltà e che proprio grazie alla signorina Esther che le regalerà una macchina da cucire sarà quello davvero il suo biglietto per la libertà e per potersi creare una sua vita indipendente da donna che non si debba mai abbassare a chiedere qualcosa a qualcun altro Esther si è costruita da sola e con orgoglio va fiera di questa sua posizione nella società di allora un bellissimo romanzo anche questo è un romanzo formativo che si ispira comunque a delle storie vere ci racconta così Bianca Pizzorno nella presentazione chiaramente cambiando i nomi dei personaggi ma sono storie che sono state raccontate a lei dalle sue zie dalle sue nonne e da sua mamma storie vere di donne che hanno saputo combattere per poter avere un posto dignitoso nel mondo un romanzo davvero bellissimo che vi consiglio anche se non amate cucire perché ci fa capire la forza delle donne come sempre i miei romanzi parlano di donne come sempre mi sono dilungata ma non importa perché il prossimo video chissà quando sarà perché adesso ho un po' di cosine da fare io come sempre vi ringrazio per la pazienza perché mi seguite con tanto affetto per essere arrivati fino a qua se mai ci sarete arrivati vi auguro un buon proseguimento di settimana e di estate e se qualcuno è già in vacanza magari qualche libro può essere di spunto per una piacevole lettura ci vediamo spero molto presto con un nuovo video io vi abbraccio e vi ringrazio e vi mando tanti baci grazie ciao